Buonasera Roberto, buonasera a tutti i telespettatori di TRS, eccoci al secondo appuntamento con questo nostro spazio dedicato a capire come si viveva nella nostra zona tanti anni fa attraverso le pagine dei giornali di allora. L'altra volta c'eravamo spinti fino a 50 anni fa nel 1961 per scoprire cosa accadeva nella nostra zona della bassa bergamasca limitrofe in quel periodo di 50 anni fa, questa volta andiamo ancora più indietro, arriviamo addirittura a 100 anni fa nel dicembre del 1911 in un mondo completamente diverso dal nostro, antecedente anche ovviamente alle due guerre mondiali e ad altri fatti storici che ci hanno profondamente cambiato come scopriamo anche attraverso alcuni giornali dell'epoca, per esempio l'Eco di Bergamo del 12 dicembre del 1911 pubblicava un singolare trafiletto che è questo che a Treviglio si diceva che un giovane socialista nostrano, l'ingegnere Guglielmo Gentili, assai noto a Treviglio per le bestemmie contro la Madonna delle lacrime pubblicate tempo fa, ha ora pubblicato un opuscolo dal titolo per la pace nel quale il bollente ingegnere si scaglia con violenza contro gli italiani tripolini. Il sottoprefetto credette di riscontrare nell'opuscolo incitamento all'odio di classe e senz'altro denunzio allo scrittore, al procuratore del re. Come vedete situazioni veramente completamente diverse rispetto a quelle che stiamo vivendo noi al giorno d'oggi sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista giornalistico perché ovviamente non si scrivono più le notizie in questo modo. Tra l'altro sempre quello stesso giorno si scopre che la città di Treviglio non aveva ancora nominato le rappresentanze comunali e viene in qualche modo rimproverato ufficialmente in questo trafiletto dove si dice che tutti i 306 comuni bergamaschi, attualmente invece sono 244, sono retti dalle naturali e legali rappresentanze elettive meno Treviglio dove purtroppo impera ancora un reggio commissario. Quindi Treviglio era stata bacchettata i trevigliesi dell'epoca per non avere adempiuto a questo obbligo. Non c'erano solo notizie di natura istituzionale all'epoca come non ce ne sono ovviamente oggi sui giornali. Per esempio il 7 dicembre sempre del 1911 si scriveva che a Treviglio era in corso in quel periodo un ciclo di conferenze sull'orticultura per iniziativa della benemerita Unione Rurale San Martino il professor Federico Pesenti dell'Unione Agricola Bergamasca terrà nel corrente inverno nel teatro delle associazioni cattoliche di Treviglio un corso di conferenze sull'orticultura con speciale riguardo all'orticultura locale. Un pezzo abbastanza singolare in cui si parla di questa particolare iniziativa. E in pochi istanti passiamo dal 1911 direttamente a 50 anni fa al 1961 dove ho trovato quest'altra singolare notizia che riguarda sempre la città di Treviglio lo scolaro di Blello vedrà stabilimenti e fabbriche di Treviglio. Una notizia veramente simpatica e piacevole anche visto il periodo natalizio di fine anno perché racconta la storia di questo ragazzino di Blello che si trova in un paese della provincia di Bergamo in valle in Magna. Questo ragazzo scrive una lettera ai suoi coetanei di allora di Treviglio dicendo su indicazione del suo maestro che non aveva mai non era mai stato fuori da questo piccolo borgo e gli studenti della scuola di via del partigiano del viale del partigiano delle scuole elementari di Treviglio lo invitano a visitare Treviglio che per lui all'epoca era una prima uscita dal suo paese di montagna. Una bella storia davvero e che vogliamo lasciare voglio lasciarvi come ultimo saluto prima della fine di questo 2011 e come un grande augurio di buon anno nuovo a risentirci e arrivederci la prossima nel 2012. Tanti auguri di buon anno a tutti. La linea torna a Roberto.